Aggeo capitolo 1 dal versetto 1 Aggeo capitolo 1 dal versetto 1 Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Aggeo a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Aggeo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi. Bevete ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite. Ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina. Mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso. Non c'è stata ruggiata. E la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio. Su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame, su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Iosadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo, ascoltarono la voce del Signore, loro Dio e le parole del profeta Geo, che portavano il messaggio che il Signore, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. A Geo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore. Io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giude, lo spirito di Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote, lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare brevemente il Signore. Gloria al Tuo nome, Signore. Signore, noi in questa mattina veniamo a Te nel nome di Gesù. Innanzitutto per chiederti perdono, o Dio, dove abbiamo sbagliato, con i nostri pensieri, con i nostri atteggiamenti, con i nostri sentimenti. Signore, noi lo sappiamo, siamo consapevoli che sbagliamo intorno a molte cose, ma siamo qui, Signore, non solo per chiederti il perdono, ma per chiedere la Tua benedizione in questa mattina, che Tu benedici la Tua parola, che benedici il Tuo servo, che ci dai la grazia, Signore, di ascoltare una parola diversa, che possa scendere nel profondo del mio cuore, del nostro cuore e portare quel risveglio, Signore, che Tu desideri da noi. Signore, aiutaci, aiutaci, illuminaci dove sbagliamo. Allontana, Signore, ogni pensiero che non è buono. Fa che la Tua parola sia predicata con i giusti sentimenti, di amore innanzitutto, verso di Te e verso chi ascolta. Ti chiediamo queste cose nel nome di Cristo Gesù, il Signore, che Tu l'hai benedetti in eterno. È necessario, prima di procedere alla meditazione della parola di Dio, fare un po' di cronistorie, anche se voi sicuramente la conoscete, forse anche meglio di me. Nel 586, circa, Gerusalemme cadde nelle mani dei babilonesi. Tutti lo sappiamo, ovvero il profeta Geremia e altri profeti avevano annunciato questo. Perché? Sempre per i peccati del popolo, perché il popolo non si voleva ravvedere. Poi che succede, fratelli e sorelle? Questo accadde in Gerusalemme, ma ancora prima, nel 722, anche la parte nord del popolo di Israele e la sua capitale erano stati invasi. Questo successe prima. Dopo ci fu appunto la distruzione del Tempio, quindi vennero presi e deportati in un paese straniero, scusate, ho invertito un po' le date. prima il regno del nord e poi il regno del sud. Questo accadde. Ma nel 538 il re Ciro fece questo editto che poterono tornare nel loro paese, una parte, non tutti ancora, per poter ricostruire il Tempio. E così iniziò la ricostruzione. Purtroppo non fu una ricostruzione immediata e veloce, ma ci furono intoppi, persecuzioni, rallentamenti, addirittura blocchi, qui si erano addirittura fermati. Se noi leggiamo in Ageo capitolo 3, adesso non è il caso di metterlo qua dietro, vediamo che quando gettano le fondamenta ci fu grande festa perché insomma quello era l'inizio di qualcosa di bello, era fondamentale per il popolo di Dio avere il Tempio come lo aveva stabilito il Signore. Ma questa costruzione rallentò fino a fermarsi. Perché si fermò? Perché? Innanzitutto per le opposizioni dei vicini, dei popoli vicini che continuamente disturbavano questa costruzione. Ma l'aspetto principale fu proprio il popolo stesso che a un certo momento a causa di queste persecuzioni, a causa di altri problemi che non staremmo qui adesso a parlare per una questione di brevità di tempo, insomma, si ritrovarono a fermarsi, a non ricostruire più. La costruzione del Tempio si bloccò. Nel versetto 2 di Ageo abbiamo detto, abbiamo letto, dice questo popolo dice non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Non è il momento. E come erano giunti a questa conclusione? Beh, era frutto di un ragionamento. Ci sono tante opposizioni e qui come costruiamo arrivano subito i problemi e allora sicuramente non è il tempo voluto da Dio. Queste erano le loro conclusioni, fratelli e sorelle. In realtà potevano essere delle scuse più che conclusioni. Forse si erano stancati di continue persecuzioni, continue intromissioni da parte di nemici. Senti, fermiamoci, qui è inutile che insistiamo, tanto è difficile ricostruire questo Tempio, fermiamoci. Adesso io faccio delle ipotesi, ovviamente. Però queste loro ipotesi erano diventate delle ferme convinzioni che Dio voleva questo, ma in realtà il Signore non aveva assolutamente nei suoi pensieri voluto che loro si fermassero in questa ricostruzione, anzi era tutt'altro. In altre parole, loro aspettavano Dio e Dio stava aspettando loro. Una situazione di stallo, spiritualmente parlando. E non è una cosa molto bella questa, fratelli. Immaginiamo che noi ci facciamo delle convinzioni, io aspetto il Signore e il Signore ci dice no, guarda, io sto aspettando te, che tu ti muovi verso di me. e il prendere tempo nelle cose spirituali, fratelli, non è sempre una cosa buona. Ci sono cose che noi dobbiamo attendere i tempi del Signore ed è giusto, ma ce ne sono altre che noi non dobbiamo aspettare. Dobbiamo subito prendere delle risolute decisioni, fratelli, e io vi chiedo nell'amore del Signore che in questa mattina noi ascoltiamo la parola di Dio. Questo popolo dice non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa, non è il momento. Al versetto 4 il Signore ribadisce vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case in berri vestiti di legno mentre questo tempio è in rovina? cioè il popolo in pratica visto che tanto era inutile continuare a costruire il tempio si era dedicato ad altre cose all'abbellimento delle proprie case ma vedete non c'era nulla di male in realtà ad abbellire le proprie case renderle più confortevoli il problema era che proprio non si erano più curati del tempio del Signore dice come per quello va bene e per la mia casa no le priorità fratelli e sorelle è una questione di priorità spesso e volentieri e qui dobbiamo stare attenti fratelli perché le nostre priorità non sono quelle del Signore dobbiamo veramente stare attenti quando poi le priorità spirituali vengono meno subentrano altre occupazioni altri interessi e sì quando non c'è più la vita spirituale che è al primo posto poi subentrano altri interessi l'avversario dell'anime nostre è bravissimo su questo ad aprirci delle strade quasi quasi ci fa pensare che sia il Signore che ci abbia aperto quelle strade a me è successo di cadere a volte in trappole del genere e adesso ci sto attento prima di dire il Signore mi ha aperto la strada aspettiamo vediamo come vanno le cose dice Paolo non ignoriamo le sue macchinazioni non le ignoriamo stiamo attenti vedete il nostro prendere tempo come ho detto prima insomma non è non è sempre una buona cosa ho sentito fratelli in particolare dire specialmente in questi periodi di pandemia quando sarà tutto finito io tornerò in chiesa ecco non c'è errore più grande che noi possiamo fare fratelli e sorelle quando tutto sarà finito e ci sono due cose da dire potresti non avere il tempo di tornare al Signore la seconda cosa potresti non trovare la chiesa perché Gesù l'ha portata via eh ma io ho i miei tempi sì ma il Signore ha i suoi come quell'uomo ricco che disse dimolerò di demolirò i miei granai ne costruirò dei nuovi e poi dirò anima mia godi tutto questo e il Signore gli dice stolto questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e cosa darà in cambio fratelli e sorelle e amici diamo il nostro cuore al Signore non aspettiamo come dice un cantico senza più tardare ti voglio dare il cuore questa mattina il domani non ci appartiene e ci sono persone che durante il lockdown hanno perso il lavoro hanno perso la famiglia hanno avuto lutti in casa problemi enormi poi c'è una categoria io non so dare le percentuali perché non conosco non conosco tutti una percentuale di credenti che addirittura in questa segregazione invece di cercare il di più il Signore si sono proprio allontanati non vanno più in chiesa e non lo sto dicendo con giudizio ma con dispiacere poi a volte mi capita di sentire qualcuno al telefono che mi ha detto per me è stata una benedizione perché io in quei momenti che sono rimasto chiuso dentro casa ho pregato di più il Signore e il Signore mi ha benedetto quindi vedete diverse esperienze diverse opportunità che chi ha sfruttato e chi non la sfruttate vedete fratelli e sorelle e questo dipende da noi fratelli le scelte le facciamo noi ora non sto dicendo che la pandemia è stata una cosa buona assolutamente perché è stata distruttiva sotto tanti punti di vista sto dicendo sto dicendo solamente quello che è accaduto ad alcuni ad altri insomma non tutti abbiamo fatto le stesse cose le stesse esperienze quando noi ci allontaniamo dal Signore quando non abbiamo più a cuore la nostra vita spirituale e tutto viene meno fratelli tutto si disperde si in qualche modo si disgrega c'è questo allontanamento che produce poi delle conseguenze anche nelle famiglie ci sono famiglie addirittura si sono separati marito e moglie perché dentro casa non potevano più stare insieme non andavano d'accordo e quella segregazione ha prodotto ha peggiorato il loro rapporto fino a dividersi e la casa non è più un paradiso se non c'è il Signore c'è un cantico ecco perché ho detto questa frase che dice è la casa un paradiso quando c'è il Signore ma quando non c'è il Signore non è più un paradiso non c'è più la l'amore non c'è più la concordia e no rileggiamo un attimino i versetti i versetti 4 anzi andiamo più avanti al versetto 6 dice avete seminato molto e avete raccolto poco voi mangiate ma senza saziarvi bevete ma senza soddisfare la vostra sete vi vestite ma non c'è chi si riscaldi andiamo al versetto 7 così parla il Signore degli eserciti riflettete sulla vostra condotta bene sulla vostra condotta ancora al versetto 9 scusate che salto così voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via perché? perché dice il Signore degli eserciti a motivo della mia casa che è in rovina in altre parole se noi volessimo dargli una spiegazione spirituale tu hai trascurato la tua consacrazione sei venuto meno questo non è un messaggio esteso a tutti eh attenzione grazie a Dio in mezzo a noi ci sono persone che si stanno consacrando a Dio e allora il Signore ci chiama a ricostruire fratelli che cosa? una struttura? un tempio? no no leggiamo quello che ha scritto in primo corinzi capitolo 3 versetto 16 mettiamolo qua dietro questo versetto primo corinzi capitolo 3 versetto 16 non sapete che siete il tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita in voi? noi siamo il tempio dello spirito santo fratelli e sorelle qui non parliamo di battesimo scansiamo un attimo il battesimo qui parliamo del giorno che noi abbiamo chiesto al Signore di entrare nei nostri cuori col suo spirito egli ci ha rinnovato ci ha perdonato ci ha donato la certezza della vita eterna ha cambiato la nostra vita e il suo spirito abita in noi ma noi dobbiamo fratelli fare in modo che lo spirito continui a dimorare in noi a non spegnerlo perché se noi cominciamo a fare questi ragionamenti che non sono da Dio sì io sto aspettando che si aggiusteranno alcune cose poi tornerò al Signore poi tornerò in chiesa voglio dirti qualcosa questo non è da Dio tu ti stai illudendo e stai facendo un cammino pericolosissimo perché la tua vita la mia vita non è nelle nostre mani il Signore potrebbe sì oggi c'è la diffusione del messaggio del ritorno di Cristo ed è giusto parlarne non sto dicendo che non è giusto ma poi ci si preoccupa poco del fatto che il Signore da un giorno all'altro da un momento all'altro potrebbe prendere la nostra vita io non so fratelli se uscendo da qua tornerò a casa magari un incidente qualcosa il mondo questo lo prende male dice questo ce la sta in qualche modo lui viene con me quindi è preoccupato ma tutto potrebbe succedere fratelli e sorelle ora ci stiamo scherzando sopra ma è così è una grande verità fratelli e allora siamo chiamati in questa mattina a prendere delle decisioni il Signore disse al suo popolo ma insomma ma riflettete bene su quello che sta succedendo e su quello che vi sta accadendo ma vi sembra questo il momento di trascurare la vostra vita spirituale adesso cerchiamo di adattarlo questo messaggio ad oggi vi sembra questo il momento visto che il mio ritorno è vicino tu ti devi preoccupare io mi devo preoccupare di essere trovato pronto fratelli e sorelle in ogni caso se Gesù ritorna o no dobbiamo metterci in regola col Signore ricostruire cosa dobbiamo ricostruire beh innanzitutto l'altare della preghiera se tu hai smesso di pregare nella tua casa nella tua vita riprendi a pregare riprendi a cercare il Signore nella tua cameretta riprendi ad avere quella comunione con Dio ma non solo qualche giorno che mi vengono in mente le parole dell'Apostolo Paolo quando dice presentate voi stessi come di morti fatti viventi fratelli e sorelle qui non parliamo dei religioni qui parliamo del nostro cuore che dobbiamo offrirlo al Signore tu devi offrire il tuo cuore io lo devo offrire la mia consacrazione deve essere rinnovata ogni giorno e come la rinnovo io la consacrazione a Dio leggendo la sua parola vedendo quello che posso cambiare ed è meraviglioso quando noi ci consacriamo sempre di più a Dio anche perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore ecco dove sono le priorità fratelli quando il Signore richiamò il suo popolo leggiamolo secondo cronache capitolo 15 versetto 2 l'abbiamo letto un po' di tempo fa questo popolo che ogni tanto si allontanava e poi ritornava e il Signore gli dice delle cose bellissime fratelli secondo cronache capitolo 15 versetto 2 il quale uscì a incontrare Asa e gli disse Asa il profeta gli disse e voi tutti Giude e Beniamino ascoltatemi il Signore è con voi quando voi siete con lui se lo cercate egli si farà trovare da voi ma se lo abbandonate egli vi abbandonerà se lo cercate egli si farà trovare da voi quando il popolo ritornando a Geo ascoltò il messaggio del profeta il Signore gli disse subito io sono con voi il Signore è con noi quando noi siamo con lui non pensiamo che quando torniamo a Dio dobbiamo aspettare che il Signore si decide in qualche modo che ci dice vediamo come si comporta e poi interverrò dal momento che noi ci avviciniamo al Signore che diciamo in questa mattina Signore io mi sono allontanato ma adesso voglio avvicinarmi a te il Signore ci dice io sono con te ti aiuterò a rialzarti ti darò la forza magari all'inizio sarà pure difficile non lo sappiamo perché poi il Signore in poco tempo può fare tutto l'importante è che tu e Dio prendiamo questa risoluzione immediata oggi se udite la sua voce la voce della sua parola non indurite i vostri cuori non lo fate perché sarebbe un danno per voi fare questo non aspettare più non aspettare più gloria al Signore Gesù e voglio concludere fratelli ricordando che Gesù sta per tornare per riaprire la sua chiesa è un messaggio forse a volte troppo ripetuto ma questo ci deve incoraggiare ad andare avanti non ci deve buttare giù leggiamo secondo cronache capitolo 7 dal versetto 13 secondo cronache capitolo 7 dal versetto 13 e poi andremo in preghiera gloria al nome santo del Signore è un testo che stiamo leggendo e rileggendo quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia sentite bene le parole secondo cronache capitolo 7 versetto 13 quando ordinerò le lucuste di divorare il paese quando manderò la peste in mezzo al mio popolo se il mio popolo sul quale ha invocato il mio nome si umilia prega cerca la mia faccia ma la cosa più importante si converte dalle sue vie malvagie io lo esatuirò dal cielo gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il paese noi vogliamo che questo paese venga guarito e ce la prendiamo sempre col mondo vero perché questo mondo questo mondo che si comporta male forse quello che sto per dire sarà anche sbagliato non vorrei che la colpa non sia tanto del mondo non aggiungo altro fermiamoci qua prendiamoci le nostre responsabilità fratelli lasciamo stare quello che accade nel mondo delle persone che ancora non hanno la luce del Vangelo facciamo un mea colpa diciamo signore è colpa mia anche perché se io fossi più consacrato a te se io veramente pregassi e digiunassi senza perdere troppo tempo sicuramente intorno a me le cose andrebbero meglio vogliamo chiudere gli occhi e pregare mi fermo qua gloria al signore questo è un momento di grandi decisioni che noi dobbiamo prendere decisioni che determineranno principalmente il nostro futuro il nostro destino eterno ma anche il bene di coloro che ci circondano quando Paolo scrive a Timotio dice vada a te stesso all'insegnamento persevere in queste cose perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano e quelli che ti ascoltano noi vogliamo la benedizione di Dio per poter essere e diventare strumenti di edificazione e di salvezza per coloro che ci circondano abbiamo la nostra responsabilità in tutto questo vogliamo pregare il Signore